...uomo, perché vogliamo renderci, vogliamo far catturire, con questo, questo con te, siamo sempre più decisi a chiedere al Senato che questo, questo amendamento deve, deve passare. E' stato soltanto una cosa simbolica, ma domani i senatori non devono fare nulla di simbolico, domani i senatori devono votare e far catturare questo amendamento. E' stato questo amendamento alla direttiva europea, nel 2010-63, allora una piccolissima vittoria degli animali è stata fatta, una vittoria perché è stato questo amendamento, che è l'amendamento che vieta di allevare animali come cari, gatti e privati. E passa questo amendamento, che non è chiudere! ...ciudere! E' chiudere! E' chiudere! ...parto, perché non sono soltanto grالingoli in Italia come allevamento di morte? Gli ufficaci stai hanno le mani, si, sporca e grondante di sangue, ma non sono, giudere! perché in Italia ci sono ancora le momenti di animali a pelliccia e non raccontiamoci male come vengono fatte le pellicce, in che maniera gli animali vengono uccisi col gas, con l'elettrocuzione, scuogliati vivi e ci mettono 10 fottotissimi minuti a crepare verso tanto la lurida e schifata pelliccia grazie un ottimo agli allevamenti intensivi di ballina maiere o di gallina da carne e a proposito di allevamenti intensivi io voglio ricordare un accostamento importantissimo il 12 di questo mese a Manerbio, Brescia, ci sarà un presidio corteo contro il mega macello il più grande macello o catena di smontaggio qualsiasi voglia se sono inni a Prescia, Manerbio quindi sì, si deve chiudere certo che deve chiudere ma non c'è soltanto questa battaglia gli animali crepono e soffrono per colpa dell'uomo ogni fottuto giorno sulla faccia di questa terra e vorrei dire anche per forza in questa giornata poi non c'entrò tantissimo un'altra cosa legge che hanno fatto i signori legislatori il 5 e il 3 giugno c'è un referendum per limitare la caccia il 3 giugno il referendum è stato abolito non si farà vergogna 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 di votare l'emendamento che avrebbe ristretto la caccia. Ora, il 6 giugno ci sarà una manifestazione nazionale a Torino, ma nel frattempo i signori delle labi, delle armi, dei cacciatori, dei vestiti e di tutto quanto guarda attorno al mondo della caccia e della pesca che è sempre permesso. Noi questo non lo vogliamo permettere, quindi il 3 giugno saremo là e oggi stiamo qua per ricordare che la gente, che il cervello ce l'ha, che non siamo sempre solo conattivi, che una testa sappiamo e che sappiamo anche ragionare e quindi chiediamo ai signori legislatori, domani alla quattordicesima commissione del Senato di votare sì a questo emendamento, perché se no veramente, altrimenti ci arrabbiamo e dire poco, ma molto, veramente di votare sì a questo, ma molto, veramente, molto, 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 molto.